Inizia a prendere corpo la composizione del girone che vedrà impegnata la Turris al suo quarto campionato consecutivo di Serie C. È stata di fatti ratificata la riammissione dell'Eco in Serie B e quindi si è praticamente delineato il roster delle squadre partecipanti al terzo livello del campionato italiano, che sarà probabilmente ufficializzato il prossimo 7 agosto. Il via della stagione invece dovrebbe esitare al 3 settembre, ovvero dopo che sarà resa nota l'ultima compagine iscritta il prossimo 29 agosto, quando ci sarà il Consiglio di Stato. In quella data dovrebbe essere ufficializzato il ripescaggio della Casertana al posto del Brescia che sarà riammesso in Serie B. I corallini saranno inseriti come sempre nel girone C, ovvero quello meridionale, in compagnia di molte squadre che ambiscono al salto di categoria, oltre a compagini che lotteranno per la permanenza tra i professionisti. Ecco il probabile girone C, Avellino, Benevento, Brindisi, Casertana, Catania, Cerignola, Crotone, Foggia, Francavilla, Giuliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto e Turris. Su fronte mercato, dopo l'ingaggio dell'ex Juve Stabia Scacca Barozzi, arriva anche la firma del difensore Cocetta in arrivo dall'Udinese.